Ogni congiuntivi, ok? Simone Albace, terzo classificato di questa seconda edizione di Buglie Poupe, complimenti! Grazie mille, grazie allo staff. No, ma grazie a te. È stato bello, divertente, è un bello spettacolo poi, penso anche per chi era qua a vedere. Sono molto contento, a me fa davvero piacere che tu sia stato qua, io l'ho detto più volte, io conosco Simone da molti anni, secondo me è strepitoso, è migliorato in una maniera impressionante nel corso degli anni, questa sera i talenti erano tanti e tutti molto bravi e lui è salito sul podio. Lo scalino più basso e la coppa più piccolina, ma la soddisfazione è tanta, no? Assolutamente sì, mi sono divertito a rifare uguale tutto e sono contento veramente. A chi vuoi dedicare questa vittoria, perché di vittoria si tratta alla fine? Una volta la dedico a me, perché guarda che elementi che ho davanti. Facciamoli vedere, facciamoli vedere, guarda qua, guarda qua, guarda qua, mamma mia, mamma mia, non ho parole. La dedico a tutti i presenti, Vanessa, Federico, Luana, Letizia, Pierpaolo, mia mamma, mio papà, Cristina, che è andata via prima purtroppo per l'orario, però sono stato molto contento, la dedico a tutti. Grazie, grazie mille Simone Albace, terzo classificato di Bullipooper Contest. Alla prossima. 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 Alla prossima.